Per Vivo Umbria, Lucia Fiumi, Presidente Aucma, ci illustra il cartellone di Suoni Controvento 2019. Allora, sì, buongiorno, come tutti gli animi, torna Suoni Controvento nel parco del Monte Pucco, e nei comuni di Sicillo, Costacciaro e Fossato di Vico. Un Green Festival che coniuga musica, teatro, arte, e da quest'anno anche la letteratura, con la presenza di Umbria Libri in Cammino, una sezione di Umbria Libri dove verranno presentate appunto delle opere letterarie lungo i sentieri che portano alla scena di Monte Pucco. Il grande evento di apertura Marco Mingoni, il concerto in quota a Piano di Spilli, sarà un concerto seguitissimo, già abbiamo avuto migliaia di adizioni, e poi tante altre novità. Le collaborazioni con l'Accademia di Dalli Arte di Perugia e con il Conservatorio di Musica, e poi anche il solito spettacolo all'interno delle grotte, ci avremmo quest'anno Dante, un Ciro Masella che reciterà appunto all'interno delle grotte del Monte Pucco in un ambiente fantastico, pavoloso. Vi aspettiamo tutti dal 21 al 28 luglio a Monte Pucco.